Buonasera, eccoci qua, siamo qui a Ocianomizu, Accademia Scuola di Lingua Italiana, Italia Cocacco, e io sono in compagnia di Giampaolo, io sono Paolo, bene, Paolo e Giampaolo, Giampaolo e Paolo, perché siamo qui? Penso prima di tutto per il prossimo... No, ma perché siamo qui? Perché siamo a Ocianomizu? Per lavoro, che lavoriamo qua, siamo a Tokyo Perché siamo a Tokyo? Perché? Dobbiamo prima risolvere questo quesito, quando risponderemo a questa domanda, allora poi dopo tutto verrà più naturale, giusto? Perché siamo a Tokyo la risposta è un po' difficile. Per il momento possiamo dire, perché stiamo facendo questo video? Ecco, 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 perché stiamo facendo questo video? Io credo che fosse per le lasagne? Anche sì, anche per le lasagne, infatti non a caso abbiamo qui questo strumento, questo non è uno strumento per fare lezioni, noi diciamo... Diciamo normalmente no, però potrebbe capitano. No, non lo usiamo. Questo si usa per... Stendere la pasta. Stendere la pasta. E perché ho messo questo sul tavolo? Perché appunto abbiamo questo grande evento il 4 maggio durante la Golden Week, non prendete appuntamenti, è un sabato alle 5 di pomeriggio, facciamo la lasagne, le lasagne, 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 lasagne. Le fate voi, noi guardiamo. Noi guardiamo, noi vi, diciamo, instradiamo, vi insegniamo. Insegniamo a fare lasagne. Quindi partendo come? Come facciamo? Partiamo dalle uova e la farina, poi amalgamate tutto, poi stendete con questo... Da zero, poi partiamo. Uova, acqua, farina, bene? L'acqua ci vuole? Ma no, non ci vuole. Basta un uovo, 100 g di farina. Dopo vediamo. Quindi acqua, farina stendiamo, facciamo l'impasto, stendiamo la sfoglia e poi dopo facciamo anche il sugo, prepariamo i sugo. Faremo lasagne alla bolognese e lasagne al pesto o alla genovese. E poi le mangiamo, ci saranno anche degli antipasti, dei vini, ecco. Quindi partecipate numerosi, abbiamo anche il forno, un nuovo forno. Quindi faremo una grande festa a base di lasagne. Visitate, visitate il nostro sito. E poi dopo, prima delle lasagne però, in aprile ci sono altri due appuntamenti. Quindi innanzitutto questo sabato faremo un evento speciale sul Festival del Cinema che si terrà a Juraccio, appunto durante la World Week. Presenteremo tutti i film che verranno appunto proiettati a Juraccio e li commenteremo insieme. Un evento tradizionale che facciamo da tanti anni. Vabbè, è gratis per gli studenti, questo è gratis. Tutto ogni tanto facciamo qualcosa di gratuito anche noi, sì. E poi invece il 27, 27 aprile ci sarà Italia News. Italia News, quindi poi parleremo ancora di Italia News. Va bene, va bene. Abbiamo detto tutto? Cosa? Altro cosa? Vuoi aggiungere qualcosa? Non so. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Ci sono dei nuovi corsi. Ah, certo. Iniziano i corsi. Ci saranno nuovi corsi. Il corso di primavera, ecco lo metto a favore della luce, primavera 2019, questa domenica il 14 maggio? No, 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 il 14 aprile. Il 14 aprile inizia il corso, quindi non dimenticate, quindi da domenica, lunedì, martedì, mercoledì, quindi i vecchi studenti non dimenticate di venire e i nuovi studenti pure, insomma, se qualcuno interessa di studiare l'italiano in un ambiente molto ambiglievole, freddo, barato, rilassato, rilassato, divertente, che rende la lezione più divertente possibile, insomma. Competente anche, no? Soprattutto. Soprattutto insegnanti bravi, no? Il fiorfiore, il fiorfiore degli italiani che sono a Tokyo. La crema, è la crema, bene? La crema, e noi rappresentiamo questa crema, quindi figuriamoci gli altri, no? Bene, quindi, va bene, cosa dirvi? Intanto, intanto ci vediamo questo sabato per Italia e Gasai, Semina, e poi dopo, sì, da domenica iniziano i corsi, e poi il 4 maggio le lasagne, mi raccomando, quindi le lasagne durante la Golden Week, tanto, ma dove? Durante la Golden la Golden Week, stiamo a tutti a Tokyo, ma dove andiamo? Tu dove vado? Tu sto a Tokyo, dovevo lavorare, io dove vado? E penso a sempre non qua lavorare. Sto a Tokyo, pure io lavoriamo, perché siamo gente seria, no? Bene, 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 quindi, niente, il video mettete like sotto il video, stralike, non so che lo volete, come si dice in giapponesi? Ine? Ine? Non lo so, va bene, quello che è, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, cercheremo di fare questi video un po' più frequentemente, una volta ogni, una volta a giorno, no, troppo, una volta a settimana, va bene, va bene, va bene, ok, ciao ciao, vedoci.